Ciao a tutti da Filippo Giannini di Trading Facile, benvenuti alla nostra video analisi settimanale sui principali mercati, le strategie dei nostri trading system, oggi mercoledì 25 marzo 2020 facciamo il punto su euro dollaro, principale cross valutario, abbiamo osservato un ritorno importante della volatilità un po' su tutte le principali coppie major, prima di iniziare però al solito vado a ricordare i prossimi appuntamenti sul nostro sito www.tradinfacile.u slash blog sotto gli eventi della settimana, trovate i prossimi webinar gratuiti, vi segnalo martedì 31 marzo scenari macroeconomici e analisi di mercato in tempo reale con la MQL Suite, dopodiché è già uscito il calendario di aprile primo appuntamento 7 aprile ore 18, poi avremo mercoledì 22 aprile e martedì 28 aprile, mi raccomando iscrivetevi quanto prima in maniera tale da poter ricevere poi il reminder nella vostra casella di posta elettronica e essere certi di non perdere la diretta. Bene, andiamo su euro dollaro, abbiamo segnalato nel corso dei giorni scorsi come da sostanzialmente da inizio febbraio sia tornata prepotentemente la volatilità un po' su tutte le principali coppie major, in particolare su euro dollaro ma anche su altri cambi quindi i movimenti al quale abbiamo assistito sono stati a mio avviso in parte dettati da tutte le vicende che si sono succedute un po' sul mercato degli indici, quindi il crollo degli indici valutari e soprattutto anche il crollo degli indici che poi hanno generato le mosse delle banche centrali quindi prima la Fed poi la BCE, ognuno con il proprio margine di azione quindi siamo tornati a vedere una volatilità importante su euro dollaro in ambito giornaliero siamo passati in un lasso di tempo veramente breve da una volatilità circa di 40 pips giornalieri agli attuali 190 quindi una volatilità quadrupla rispetto a quella alla quale eravamo abituati nel corso dell'ultimo anno e mezzo abbiamo visto qui Mari, andiamo prima su un time frame giornaliero abbiamo visto il mercato fare questa fiammata fino ad area 1,15 per poi insomma ritracciare completamente il range e andare a fare minimi in area 1,06 e 45 a mio avviso cosa importante da sottolineare è la configurazione tecnica alla quale abbiamo assistito su questi livelli quindi su questi minimi in area 1,06 e 80 e questo lo vediamo meglio su un grafico orario vedete che dopo aver breccato al ribasso il supporto, questo supporto in area 1,7 e 80 il mercato ha fatto 9 minimi andando però a disegnare un modello di inversione questo si vede chiaramente che è un pattern di tipo a testa e spalle rovesciato conclusi con questo break di volatilità in area 1,8 quindi modello rotto al rialzo con importante aumento di volatilità mercato che successivamente ha esteso il proprio movimento finale ad area 1,8 e 80 per poi andare a fare il classico pullback sui livelli vicini a quelli di rottura in area 1,7 e 50 questo che cosa significa? significa che a mio avviso purché insomma permane ancora a debolezza però ecco in virtù di questo pattern di accumulazione importante che abbiamo osservato su questi livelli è lecito attendersi una mossa fino ad area 1,10 sarà però a mio avviso un percorso non privo di ostacoli perché io qui vedo una resistenza dinamica ancora a 1,8 quindi mi aspetto che il mercato possa andare a lateralizzare su questi livelli prima di appunto fare questo ulteriore break al rialzo che decreterebbe poi anche l'uscita da questo canale quindi certificherebbe l'avvenuta inversione del trend ripeto a mio avviso insomma ecco quadro quindi ancora un pochino contrastato nel breve però mi attendo come mossa finale l'arrivo in area 1,10 dopo 1,10 a mio avviso potremmo assistere anche qui ad un ritracciamento magari proprio andando a ritestare un 8,80 e il prossimo target al rialzo ancora più importante di questa area 1,10 che comunque è una resistenza di medio termine troviamo una resistenza ancora più significativa qui in area 1,11 e 30 e questo potrebbe essere davvero il punto di arrivo del movimento attuale ritengo tuttavia che ecco nel prossimo periodo comunque sia la forbice di prezzo entro il quale euro dollaro possa rimanere a livello di scambi sia la forbice compresa tra 1,13 e 1,8 e 90 quindi questa forchetta di prezzo è poi chiaramente difficile fare previsioni un pochino ancora più nel lungo periodo ho tenuto conto che sostanzialmente dopo l'azzeramento dei tassi da parte della Fed in pratica si gioca una partita ad armi pari perché come abbiamo detto più volte nel mercato dei cambi in particolare dell'euro dollaro pesava fino a poco tempo fa il diverso margine di azioni in tema di tassi di interesse poiché sapevamo che la Fed insomma era con i tassi a 1,25 fino a un mese fa e quindi mentre per quanto riguarda l'Europa siamo già con i tassi negativi forchette tra meno 0,25 e 0 adesso in pratica la Fed ha portato i tassi allo stesso livello sostanzialmente poco più di quelli che sono i tassi europei il margine di azione è sostanzialmente uguale quello che potrà cambiare sarà mi avviso il margine di azione dettato da appunto emissione di liquidità quindi qualità di easing, capire quale sarà la portata reale poi sia degli interventi da parte della Fed sia della BC e quindi questi a mio avviso poi andranno a determinare le prossime mosse sul mercato valutario però comunque sia ritengo che area sotto ad area 1,7 e 50 ci sia poco margine di scambio a mio avviso è un'area che comunque sia non è stata poi chissà quanto battuta dal mercato ogni volta che il mercato vi ha fatto arrivo poi tutto ciò ha determinato una rapida inversione quindi ritengo che la cosiddetta comfort zone al momento sia questa qui ripeto tra 1,13 e 30 e 1,8 e 80 e quindi ecco mi aspetto scambi nel breve periodo all'interno di questo range però ecco con un occhio maggiormente improntato al rialzo quindi ecco magari comprare le discese di euro dollaro piuttosto che magari ecco venderne le salite bene andiamo adesso al solito a commentare alcune operazioni svolte nel corso dei giorni scorsi dai nostri trading system qui giusto per farvi vedere quali sono stati i livelli di ingresso che poi hanno determinato i maggiori le maggiori mosse insomma i maggiori break di volatilità abbiamo avuto nella giornata del 23 di marzo un'entrata longa quota 1,7 e 40 ma la vediamo anche qui sul grafico 23 di marzo eccoci qua quindi mossa a 1,7 e 40 qui chiaramente non abbiamo una convergenza assoluta dei livelli perché questo è il grafico spot mentre le operazioni che stiamo vedendo si riferiscono al future di euro dollaro quotato al CMA comunque è entrata 1,7 e 40 presso a poco su questi livelli prima di osservare appunto questa barra nuova barra di espansione di volatilità uscita in questo caso alle ore 16,45 quota 1,8 mentre nella giornata di ieri abbiamo assistito di contro a un mercato che dopo una prima iniziale mossa fino a 1,08 non è riuscito poi a spingersi oltre ma anzi abbiamo assistito specie nella seconda parte di sessione a una forte debolezza appunto su euro dollaro questo ha fatto sì appunto che l'algoritmo determinasse una entrata short non specifico a 1,0875 per poi chiudere anche qui nel pomeriggio a quota 1,08 e 20 altre operazioni di un differente trading system anche qui notate come 1,0740 da 1,0740 a 1,08 ci sia stato margine al rialzo dopodiché però ecco qui si nota molto bene la debolezza di ieri operazione long aperta 1,0870 è chiusa in perdita a 1,0863 mentre facendo un reverse da 1,0860 nella seconda parte di sessione abbiamo tratto profitto dal movimento ribassista bene io al solito vi ricordo che tutta l'operatività dei nostri trading system la trovate su www.tradingfacile.eu per qualsiasi informazione ci potete scrivere a infochiocciola tradingfacile.net anche per oggi è tutto un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti grazie a tutti